Come si distingue Star Academy da X-Factor e da Operazione Trionfo? L'incipit è il medesimo tra Operazione Trionfo, Star Academy e X-Factor e Amici, American Idol, The Voice e tanti altri, che è la musica. Quindi siamo lì per dare spazio a dei giovani talenti. Poi, la particolarità di Star Academy, che si differenzia da tutti gli altri, è che le esibizioni sono corali, per cui sul palco tu hai dei cantanti che canteranno sempre a due o più talenti. In più, i grandi ospiti italiani, internazionali, nella prima puntata avremo Biagio Antonacci, avremo Mengoni, Max Pezzali, nella seconda puntata avremo Zucchero e Nec, che così cercheremo di portarci dietro tutti i grandi cantanti italiani, anche perché stiamo lavorando, insomma, la direzione artistica del programma è stata data a Friends & Partners, che in dote ha tantissimi cantanti, da Baglioni, a Laura Pausini, a Ligabue e tanti altri. Questi cantanti non verranno da noi solamente per cantare il loro pezzo, che di fatto non serve quasi a niente, non serve a loro, non serve a noi, ma verranno per mettersi a disposizione del programma. Senti, una pagina Facebook visitatissima a 130.000 fan, tu sei presentissimo su Twitter, su Internet in generale. Da dove viene questo amore per i social network e com'è relazionarsi con i fan, con questi nuovi strumenti? Allora, solo un comunicatore stupido non utilizza questi strumenti di comunicazione. Per quale motivo? Perché la notizia virale, cioè quella data su Facebook, Twitter o dir si voglia, altri social network, è una notizia che arriva a più persone, viralmente arriva a più persone, poi da queste persone ancora viralmente arriva a altri, con la condivisione. Quindi se io, che sono, diciamo così, mi definisco uno che utilizza la comunicazione spesso e volentieri, voglio dire, per esempio, che sta partendo Star Academy e penso a, oh, come faccio a dirlo a più persone possibili? Meglio che lo dico a un quotidiano o lo scrivo su Internet? Al giorno d'oggi è meglio scriverlo su Internet. Ho avuto editori che mi hanno chiamato e mi hanno detto, guarda che tu stai sbagliando, in qualche modo stai rovinando l'editoria, così ho detto, ma non è vero, assolutissimamente. Uno perché la notizia la do come voglio io, cioè la virgola, la punteggiatura è importante. Se io ti ripeto una roba e tu non scrivi esattamente come l'ho detta io, con la punteggiatura che ti ho detto io, le pasi che ti dico io, è un'altra cosa. Invece lì le comunicazioni importanti sono scritte da me. Su Facebook hai anche annunciato la nascita di Mia, come fa chi niente i papà? È una bella domanda, me lo domando anche io tutti i giorni come sono. Spero un bravo papà. È l'unica speranza che un padre può avere di essere un bravo padre. Il resto non conta nulla, per cui spero di fare esattamente quello che un padre deve fare, quello che mio padre mi ha insegnato, essendo lui un bravo papà, spero di fare solo quello. Il papà imparca un digio che cambia anche i pannolini o solo la Marcuzzi? No, 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 io faccio tutto quello che un padre deve fare, cambio anche i pannolini e li metto nel maialino. Tu sai cos'è il maialino? Hai figli? Eh, si vede che non hai figli. Il maialino è una cosa che mette sotto vuoto i pannolini, perché siccome non è nato, insomma, bisogna cambiare il pannolino almeno 5-6 volte, secondo di quante popate fa, secondo di quante volte, insomma, fa i suoi bisogni, quei pannolini li puzzano. Se non hai il maialino, ti si puzza tutta la casa. Allora il maialino li metti dentro, li metti sotto vuoto e fa molto ridere. Vallo a comprare comunque, portati avanti. Grazie.